Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo Se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video outfit La maglia è questa L'avevo presa da Zara due anni fa, tre anni fa Un po' di tempo fa Però è troppo carina Ed è leggermente più lunga dietro e più corta davanti Con queste righe gialle e nere, però lo sfondo è bianco Il collo è un giro collo Molto carina E' una delle mie maglie preferite Le mie t-shirt preferite Sempre di Zara, credo Sì E' questa gonna lunga Mi arriva, se la metto all'altezza della vita Mi arriva poco prima delle caviglie Però la potete tenere anche un po' più bassa A me piace tenerla così Anche se è larga Ha un elastico ma è morbido L'ho presa l'anno scorso, due anni fa da Zara Penso due anni fa E' un colore, non so se lo vedete Tra il verde e il grigio E' un verde però Ha una componente grigia E mi piace come ci sta la magia su questa E' comodissima, è fresca per l'estate e va benissimo Come scarpe Le mie solite Anidas La borsa che uso ultimamente è sempre lei La shopper presa da Deichman di Kendall e Kylie Che è la più comoda che ho Questo era l'outfit del giorno Spero che il video vi sia piaciuto E' stato utile in qualche modo Lasciate un like, un commentino qui sotto Iscrivetevi al canale Mi raccomando, vi mando un grosso bacio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao, ciao